Ciao, mi chiamo Luca Broccardo e lavoro nell'eparto attrezzeria come ha detto al torneo a controllo numerico. Tramite disegno ufide fornito dall'ufficio tecnico mi occupo della realizzazione dei particolari per gli stampi di nostra produzione, attrezzando e programmando la macchina nella più completa autonomia. Perfetto. Luca, volevo chiederti cosa ti piace di questo lavoro qua? La soddisfazione nel vedere il prodotto finito, ancora di più se è un particolare complesso dove ti metti in gioco con te stesso e la tua esperienza. Grazie. E se dovessi dare un consiglio ad un ragazzo giovane che porta il curriculum per l'assunzione qui, cosa diresti? Non aver paura di domandare, di sbagliare, di ascoltare i consigli di tua esperienza, a volte anche solamente osservando si può rubare qualche trucco del mestiere, ma la cosa più importante secondo me è avere l'umiltà. Grazie mille, buon lavoro. Grazie.